Fatto? Sì. Buongiorno, oggi abbiamo fatto un po' di provviste. Cominciamo con Durbars, alito fresco, protegge dalla carie e rinfresca l'alito. 75 ml, 99 centesimi. Ne abbiamo preso ben due, poi fructis, fructis, ecco, antiforfora, 1, 2,49. Non era un'offerta, credo. Ancora 2,49, due pezzi ne abbiamo preso proprio in vista. Poi mantovani, baglio, 1,39. Ecco l'altro, 1,39, sono due, provviste sempre. Due mantovani. Poi è Vol, cos'è Vol? Non sarà Venus. Venus. E cos'è Venus? Ah, ecco. No, questo è il colluttorio. Questo dovrebbe essere, sì, infatti, il detergente intimo Venus, il nativo. No, questo è il balsamolio. Qui è il balsamolio? Balsamolio? Non l'hai preso allora? No, io non ho preso nulla. Ho preso questo qua, shampoo della Vidal. No, balsamolio. Ma cos'è? No, aspetta. Ah, è rimasto lì dentro, no? È rimasto lì dentro. Le mou? Sì. No, 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 no. Sì, ma ho preso nel vivo, no? Guarda la mia mente. Sì, no, no, no. Aspetta che appoggia la telecamera. Fammi appoggia la telecamera. Fammi appoggia la telecamera. Ecco, ecco. Come si chiama questo? Elvive. Elvive. Elvive balsamo. Elvive balsamo nutriente. Nutriente. Da quanto? Olio straordinario. Allora, c'è scrittura che parte. Cos'è questo? Elvive, leggi bene. Allora, Elvive. 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 Olio straordinario. Sì. Balsamo nutriente con oli di fiori preziosi, intensa brillantezza e morbidezza. Per capelli secchi. Sì, perché ci devo spiegare. Questo è? Questo è? 2,99. Bravissima. Sensitive. No, Elvive. Qual è? Elvive. Questo qua. L'hai letto? Ah, questo. Mentre Senso Dine. Senso Dine con l'ottorio. Ce n'è un bel po'. 500 grammi. Eh, direi. Eh beh, basta quello. Che protegge le gengive. Certo. Mi ci trovate molto bene. Prolungata per la sensibilità con l'ottorio. Smacchia i denti. Ecco. È scritto in altre lingue. Eh, vabbè, però già si è capito. 500 grammi. Sì. E costa 4,79. Sì. Eh, vabbè, però. Poi cosa c'è? Subito, totale 18. 18? Eh? E 19. Farlo leggere. Allora, 18,19. Sì, vabbè, l'avete visto. Sì, spesa di oggi come proviste. Ok. Allora. Poi? Questi. Prendi quella bacinella e ce li metti e poi cominciò a mettere. Adesso chiudi questo. Aspettate che stoppetano subito. No, questo magari lo chiudiamo e mettiamo la spesa vivere dall'altra parte. Sì. E io? Aspettate a me. Ok. Allora. Mettela sentate qui e poi la conserviamo. Sì, tranquillamente. Allora. Uno shampoo che lo portiamo a sopra per l'arossino. Glielo diamo qui quando viene. È un deterfriccio perché l'ha finito. Va bene. Lassiamo in alto al mobile. Uno shampoo e un deterfriccio. Allora. Metti anche uno shampoo. Quanto bene vi lo devo? Sì, prendo questo. Adesso bisogna fare altro. Sì. Allora ce n'è ancora lì. Uova. Sì. Aspetta che rialzo la telecamera così ti si vede meglio. Allora la spesa di punto simile. Punto simile. Sempre nel giorno. Oggi cos'è? Cos'è? No. 30 aprile non può essere. No, hai letto male forse. 12,5. Sì. La spesa di oggi al super punto simile. Provisti anche qui. Cos'è? Del momento. Sì. 6 uova per 2 sono. 2 euro sono 1,15 euro. Sono 2 euro e 26, 12 uova. Comodora Antonella. Aspetta che vengo a aiutarti io. Comodora Antonella, pelati Antonella, quindi sardi. Sono 800 grammi. 1,39. Non è che sia poco. Non c'è il risparmio. Però la qualità è buona. Aspetta. Allora lo appoggio perché qua non mi piace. Voglio darti la mamma. No, lo faccio io e tu registro. Olio di semi di girasole. San Marco della marca. Un litro penso che sia. Vediamo. Sì, un litro. 2 euro e 39, non è poco. Però non potevo andare all'euro spinto. Perché è troppo lontano. Testar. Sì. 25 classico. 25 filtri. Vedete. 1,55. Ok. Poi. Da 25 filtri. Allora, un etto d'ungherese di salame cisterio ungherese. 2 euro e 5 centesi. È a 19, quindi è uscito qualche gramma di più. Mozzarella. Mozzarella è lì. Mozzarella Santa Lucia. Sono tre mozzarella, d'albanica Santa Lucia. 2 euro e 99. Latte intero, arborea. Buonissimo, tra l'altro. Lo mangio la mattina, lo bevo. 1,50. Però, ah, ma tutto le 20, perché era 1,39 oggi, perché scade domani. Sì. Ma tasanilla, il latte già sta poco. Quando scade, lo bollisco. Sì. E poi va bene. Allora, craft, dov'è Filadelfia? Filadelfia l'aria è lì, lì dentro, certo. Filadelfia, formaggio fresco, originale Filadelfia. Contro peso, 250 grammi. Da? Filadelfia. Filadelfia classica. Classica, sì. Classica, originale, originale. Quattro buste di lievito Bertolini. Quattro buste, 1 euro e 69. Sì. Poi? Olive. Verdi. Olive nere, breche, che sono a 13,90 letto. E sono questi, 1,26 grammi. Quindi sono 1,47 euro. Se l'abbiamo già preso, sono vedi, un po' carucci, ma... Olive nere, crepe, 1,47 euro. Baratto. Baratto e morto. Banane. Banane buonissime. Banane, questi sono... Sono a 1,89 al chilo, 750 grammi, 1 euro virgola 37. 33, scusate. Sì. Poi c'è due limoni. Due limoni, pesche, che sono a 1,69 euro al chilo. Meno di quanto li vendono in piazza. E quindi sono 1,95 grammi. Quindi 33 centesimi. Numore nessuno. Poi c'abbiamo... Fesche, due pesche, un po' pelle. Magari con le banane si può fare una macedonia. Ma sì. Allora, pesche, sono a 3,89 euro al chilo. Questi sono usciti 260 grammi, 1 euro virgola 1. Lievito di birra. Lo trovo. Eccolo qua. Perché facciamo la pizza in casa. E tra l'altro viene stra buono. Lievito di birra, 19 centesimi. Quanto è? Da 50 o da 25 grammi? Fammi vedere. Quanto è il caffè suerte. Lo si vedete che non dice di più. Ah, da 25 grammi. Ah, ok. Caffè suerte. Caffè suerte. Buono. E mezzo chilo, due pacchettini, 2,50 ognuno. Eccolo qua. Quindi mezzo chilo. 3,95 euro. Questo prezzo è molto stabile. Poi c'è il yogurt. 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 Solo tre ingredienti naturali. Fragola. Yogurt. 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 La fragola è limone e arancia. 1,39 euro. Sì. Eccolo. Questo invece è così. Limone e arancia. L'ho detto anche prima. Ecco, questo è sempre. Assolutamente. Yogurt intero con agrumi di Sicilia. Bravissimo. Quindi, sono sempre tre agrumi. Quanto sono di peso? Aspetta, ma guarda. Cento grammi ognuno. Quindi sono due per cento grammi ognuno. E sono uno e trentanove centesimi. Cioè, sono due. Sì, io amo. Duecento grammi. Poi cos'è? Poi c'è altro. Sono due quelli, l'abbiamo detto. C'è il cioccolato e la carne. Ma la carne non farò vedere tanto. No, non è quello. Allora, Kinder Karts, Biscoppo, Merenda, Tecreno, ed è 2,9 euro. Quanti grammi è? Guarda tu. Ci sarà lo scritto da una parte. Ce n'è cento grammi, è possibile? Possibile, sì. Pare che ce ne sia cento grammi, ma io credo che ce ne sia di più. Comunque. Controlleremo. Sì, assolutamente. Allora, un po' di profiste. L'abbiamo fatto. Sì, apposto. L'abbiamo fatto del vino e della carne che non stiamo a farvi vedere, ma... Tretti di carne che non sto neanche a tirare fuori. Ok. Allora, allora. Parla. Siamo a buon punto con i vaccini. Fate i vaccini. Riguardatevi. Perché siamo tutta una famiglia nella stessa varca. È certo. Se le persone non fanno misepidenti. Sì, sì, sì. Se non fanno i vaccini, ci ammaliamo tutti quelli che abbiamo fatto i vaccini. Siamo coperti al 95%. Ci possiamo riammalare, ammalare. Quindi, se vogliamo uscire da questa situazione, tutti i vaccino. Sì, e mascherina. Mi fai parlare. Sì. Vaccino e mascherina. Ricordiamoci e cerchiamo di capirci bene. Qui si tratta di due possibilità. O vaccino o vecchino. Quindi pensate. Perché se voi vi ammalate, potete fare ammalare i vostri figli, i vostri amici, i vostri genitori. Quindi, dobbiamo essere prudenti. Fare i vaccini. Adesso, ieri notte, ha detto che si facevano i vaccini. Fare la domanda. Quelli che hanno 40 anni. Cominciare a prenotarsi. Carissimi, vi voglio bene. Voglio bene all'umanità intera e auguro tanto bene a tutti. Però, quello che vi ho detto, cercate di farne un tesoro. Non perché ve lo sta dicendo questa vecchia, ma questa vecchia ne ha esperienze. Un morto in casa, non sapete cosa significa? Un figlio, un marito, una figlia, anche una suocera, una congiata. Amici, quindi, riguardiamoci. Mascherine, non assemblamenti. Vi chiedo perdono, sono stata brusca. Però, è per il bene nostro e di tutti noi. E certo. Perché se no, non usciamo. Tante cose. Aspettiamo tanto bene dall'alto. Arrivederci alla prossima. Ciao, ciao ragazze, a presto. Un bacione e un abbraccio forte virtuale. Ciao, ciao.